Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video siamo nuovamente nella Pixelmon dove avevo interrotto nell'ultimo episodio dove avevo interrotto qui e stavo sminando, scaveggiando mmm... solo che ho smesso di trovare roba, quindi mi sono un po' demoralizzato dei funghi marroni, interessante però non è tipo troppo, mi servivano i funghi rossi, vero? si, i funghi rossi allora ragazzi, che facciamo in questo episodio? sinceramente io vorrei scavare... oh, oh, Iron e io? vai a cazzo? oh, cioè c'è del ferro qui, non mi dite niente ma che cosa stai i mafiosi? è una mafia, è tutto un complotto una grotta non esplorata mamma mia, ci vengono a nozze guarda l'altro ferro ma se questo colo lo raccolgo tutto e faccio il grid come al solito ragazzi, madonna quanto colo, scavate in questi episodi non ce la faccio più ovviamente il livello settimanale è ancora il 20 quindi ragazzi, io vorrei far salire Beldum almeno al 20 perché ho letto dei commenti che dicono che... ok, scusate l'interruzione vediamo un po' dentro questa maniera che cazzo troviamo... oh! boxite donna ragazzi, sta maniera è proprio così ignorata proprio così abbandonata cioè, mamma mia tutto per me, tutto per me oh, ferro staccato ferro vicino a del ferro staccato dal ferro cioè due vene di ferro attaccato a una vena di boxite in comune e cose impossibili minecraftiane si sente rumore di qualcosa che si sta sfasciando qualcuno che sta rompendo qualcosa e ho rotto un piccone io grande, mentre spaccavano gli altri io spacco il piccone eh, guarda quanto ferro madonna, ho fatto bene attorno a qui miniera cazzo, ti confermate oh mio Dio si, non spaccate tutto, grazie allora, allora, allora guarda quanto e buh, esploso tutto non so se sentite anche voi i rumori che vengono non so che cazzo è che sto spacciando vabbè ok, finiamo di scavare sì, vabbè, altro ferro tutto ferro attaccato a boxite attaccato a ferro vabbè, ho trovato una mega vena mi sono arricchito, tipo non so quanti soldi posso aver fatto forse mi sa che sono arrivato a 2000 dollari di nuovo no, servono 100 arriva a 2000 servono 100 100, 100, 100 cosi 100 no, fermi tutti fermi ho visto una cosa che mi ricorda un qualcosa che so io è un fossile oh mio Dio ho trovato un fossile ho trovato un fossile eh, devo fare un macchinario devo fare un macchinario devo fare un macchinario del fossile oh mio Dio ho trovato un fossile ho trovato un fossile non c'ho culo ma di più e il fossile chissà che uscirà ragazzi potrà uscire qualche pokemon strano misterioso leggendario sicuramente non me li ricordi pokemon fossili mi ricordo quelli della prima generazione come erano omanite e diventava oman star giusto? e poi c'era com'era l'altro cabuto che diventava cabutops metto sta fantasia omanite omanite omanza cabuto cabutops poi nemmeno manco cambiano i nomi c'è proprio fantasia zero oh quella grotta mi ispira lo sapete oh già ci sono stato lì no già ci sono stato qui tutto scavato ragazzi c'è la gente ha scavato tutta questa miniera e non si è accorta che c'era un fossile qui e sono passato io l'ho trovato c'è proprio ci sono girato intorno arrivo io e lo trovo proprio sciallo proprio scialla tralla ok ragazzi ho trovato un bel fossile notare il mio senso di orientamento ragazzi ho ritrovato subito l'uscita mamma mia e qui c'è un miltank che fa botte con un altro miltank che livello è? 9 aspetta che finisco gli mando beldum dai dai ammazzatevi crepate la vicenda su miu non sei miu sei miltank ti stai confondendo vi uccidete? ok bravo uccidilo uccidilo guarda questo miltank al 9 sto uccidendo un miltank al 9 è terribile morto belli grazie oh telefono eh scusate l'interruzione ragazzi ma ovviamente è arrivato il tecnico e mi ha sistemato la linea what the fuck ok entro lunedì o martedì mi ritorna la linea come prima dove cazzo sto? ma pensate dove sto? ma guarda che posto ma dai ma cosa ma non ci credo mai non ci credo mai non ci credo mai non ci credo mai allora sì abbiamo rimediato un nostro fossile fighissimo ragazzi ho rimediato il fossile adesso me ne torno a casa mi tu vedi l'interfaccia di pokemon ma è baggata l'interfaccia non vedi i pokemon e quindi che poco mi ha selezionato ora come faccio a vederlo? lancia no pg8 no no che ho fatto? un geododum adulator arvesta allora vediamo un po' bell doom eccolo allora ragazzi volevo fare expare bell doom un pochettino ma lo sapete che faccio? lo sapete che faccio perché sono stronzo? ci vediamo nel prossimo video no ragazzi mi devo studiare come si estrae il fossile devo estrarre il mio fossile prossimo obiettivo estrazione fossili ignorerò tutta la questione baracche rose tra bocchetti e giro a tretti e devo anche fare la seconda casa c'è da lavorare mii quante cose da fare devo fare la seconda casa cos'è quello? che pokemon è? ah un magica fanculo oh bell doom contro magica vai ragazzi vi saluto ci vediamo nel prossimo video e intanto mazzo magica one shot e soldi dollar dollar ciao a tutti ragazzi ciao ciao non è vero ragazzi il video non è finito nemmeno manco per il cazzo scherzo ragazzi vi ho trollato? qualcuno ci è cascato? ci credeva che finiva subito? no ci si intanto esplode la roba di là ragazzi mentre esplode la roba io metto a curare i pokemon non è vero sono tutti a posto bell doom 38 su 44 beh dai giusto per bell doom pochettino allora ragazzi adesso mettiamo a cuocere tutto ciò che abbiamo rimediato e sinceramente devo decidere cosa fare con questo fossile io sinceramente non so come si fa la macchina per i fossili non ho la minima idea eh livello 23 cazzo sei forte 23 mamma mia allora mi serve qualcosa da uccidere tipo quel fregneto lì dov'è? l'ho perso dove è andato? è fuori eccolo livello 7 vai vai tutta sana x per il mio bell doom ragazzi bell doom lo facciamo combattere solo con pokemon pippa almeno si ma non sale di un cazzo questo 14 vai no con l'altro 14 no 14 ok eh takedown quanto gli faccio? non l'ho preso ma dai ma che cazzo dici? si ma mi fa abbracere è tipo fuoco si vabbè ah ma scappa è tipo fuoco fantasma cioè non ha fatto non fa effetto takedown perché è tipo normale oh mio dio quante scoperte ragazzi ogni giorno nel mondo dei pokemon vedete queste cose non le so se non le scopro così oh mio dio cosa vede nei miei occhi oh mio dio le bacche quante cazzo di bacche sono porca troia oh porcaccia porca porca bacca bacca vieni qui vieni bacca vieni bacca vieni bacca mia 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 che cazzo sei sablé oh che palle su sablé che sacco se lo combatto gli mando che gli mando marshtomp gli mando marshtomp ragazzi lo faccio combattere fino alla morte intanto esplodono le cose ok marshtomp fagli pistola acqua ok 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 dai che mi uccide marshtomp così gli mando un altro e mi fa expare vai 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 ci sto ci sto vai marshtomp ti sacrificherai per il team fai ancora pistola acqua ne fai un'altra adesso pistola acqua bene adesso muori bravo adesso vai l'harvester ci fai un bel bracere boom esplode la roba bracere dai che l'uccido dai che l'uccido dai che l'uccido perché non fa effetto no critica lì ti mi ha fatto non è morto non ce credo mai 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 gli mando rratata che gli faccio con rratata morso fa effetto morto no morto rratata ma è ucciso pure l'harvester no bloccato mannaggia bloccatissimo troppo bloccato No, ma c'è pure questo No, fugo, fuggisci No, mi ha rovinato tutto Niente, tutto è andato a puttaneo Eh, sì, vedrà fare gli effetti Take down, come faccio a fare take down sul pokemon spettro? Eh, punto Fuggi Quanto? Guarda, mi hanno sfasciato tutto l'orto Il pokemon che sta al tela Non fa Ok, mi sono curati i pokemon Allora, che faccio adesso? Devo riprovare ad expare il mio piccolo Andiamo un po' da queste parti Vediamo se trovo qualcosa di uccidibile Qualcosa che è killabilissimo La questione è questo muro di alberi che tipo mi piace Ma ho raccolto altri sapling per caso Vediamo un po', ragazzi, voglio ingrandire il mio muro Non ho sapling Dovrei tagliare gli stessi Tionix I colpi che mi fa prendere quel pokemon Non è grosso, ho dei più Rattata E che rattata E alle 5 Mamma mia che schifo Dai, almeno Cioè Almeno un minimo di sfida Non l'ho colpito? Ah, ok Vorrei vedere Mil tank che livello è? Machop Mil tank al 6 Machop al 10 Provo con machop Oh, oh Sei buggato machop Prendilo, prendilo che hai buggato Oddio, ha iniziato il duello con meno HP Figata Dio, l'ho uccido È morto Basta Aia Mi uccide, mi uccide lui Porca troia, che male Porca troia Vai l'arvesta Brasciere Brasciere, vai Mamma mia, grande l'arvesta 15 Mamma mia, dette l'arvesta Proprio Ok, abbiamo ucciso machop E mi è morto Beldum E ho tutte queste bacche da raccogliere Ovviamente Mamma mia, quante bacche Accogli tutto Accogli tutto Tutto, tutto, tutto Tutto mio Tutto mio, tutto mio Il mondo è mio Conquisteremo il mondo di Pixelmon Altro che Team Rocket Oh, Team Rocket idea No, non è vero scherzo Non ho nessuna idea Cancella, cancella, cancella Allora, tutte queste bacchette sono mia Quante ultrabol mi farò con queste bacche Numero indefinito No, no È definito il numero, ragazzi Perché le sto finendo, cazzo C'ho più bacche Ecco, finite tutte Allora, vediamo un po' esattamente Quante ne raccolgo di bacche Non vorrei 32 precise Cioè, ragazzi C'è questa piantagione Da 16 e 16 Cioè, l'ho fatta precisamente Uno stack di bacche Cioè, oh mio Dio Dette precisione Ovviamente di arancione Ne sono uscite 34 Perché non lo so Perché Ne escono 34 Non 32 Una l'ho piazzata per terra Perché sono un coglione Ok, il legno che esce dalle bacche È vero Mi ero dimenticato di questo Piccolo dettaglio incomprensibile E adesso andiamo a curarci Un'altra volta Che palle Mamma mia Ogni volta devo uscire e curarmi Uscire e curarmi È possibile che Beldum Non impara un cazzo Fino al livello 20 O quale livello è? Sinceramente dicono che al 20 Impara qualcosa Ma io, boh Non ci credo Ma vediamo Oh, un Pidge perfetto per Beldum Certo, sta al 5 Oh Mi ha attaccato l'arvesta Vai l'arvesta Bracere Morto Oh, le piume No Detto piume Oh, ecco, ecco I nostri pagano avversari Vai contro la tata Fagli il culo Oh, guarda Ma tirata Eh, ma tutti i bassi Quello sta al 4 addirittura Ma perché spam Tirata dal 4 Che figo Beldum Che gira l'occhio Non l'avevo visto Oh mio dio Che figata Oh mio dio Che figata Fappissimo Ma non sta prendendo Un cazzo di explode Vai Che schifo Ma se do il lucky egg A Beldum L'ho trovato il lucky egg Lucky egg Gli vediamo subito a Beldum Dai, dai Damoglielo a Beldum Dai, dai Beldum Vieni qui Lucky egg su Beldum Ragazzi In teoria Dovrebbe, sì Dovrebbe renderlo un po' più forte Vediamo questo che glielo è Al 30 Gatsby È troppo alto Mi dai troppa exp Non mi serve Oh Pelle Ragazzi Sto per potermi fare un altro zainetto È forza di raccogliere perle Oh DG nice Altra pelle Oh my god E qui schiattano i pokemon Ma non trovo i pokemon Che l'hanno fatti schiattare Cioè in teoria Un pokemon uccide un altro E quello che l'ha ucciso È morto E quell'altro è vivo Quindi sta qua da qualche parte Ma dove? Non trovo pokemon Sono morti tutti i pokemon Pokemon Venite qui Un Raidon Troppo grosso Raidon Oh Rattata Rattata Perfetto per il mio Beldum Rattata Rattata Vieni qui Nivello 4 Non vale nemmeno la pena duellarlo Cioè Dai Questo? Un PG Al 2 Mamma mia non sarei troppo P Ma che è ragazzi Vanno al periodico C'è una volta escono tutti i pokemon A livello 87.432 Adesso escono i pokemon Al 3 Al 2 Al 4 Vabbè 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 Allora Vediamo un po' Oh Che carino Un po' le vaga al 15 Vai Beldum Take down Aia Mi fa male Aia Gli faccio più male io Mi sa Vai 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 Take down Take down Boom Morto Quante ex mi ha dato? Oh 500 Meglio di niente Gli mancherà ancora un po' Per livellare Mi sa Vero Beldum Eh sì Dai Almeno ha fatto un passo in avanti Dai ragazzi Tra poco sta il 19 Il nostro Beldum Dai si va avanti Si va avanti Ok Vediamo questo Rattata Rattata che livello sei? Dai Fatti vedere Livello 9 Mi da un po' poco Sinceramente Non mi va di sprecarmi Un po' Ah vediamo questi Vediamo questi Oh questo che livello è? 25 No troppo alto Questo che livello è? 6 Questo è livello 11 Già 11 Potrebbe ispirarmi Vai vai contro l'11 Va Take down Ah qua ci muoio però Ci muoio ci muoio ci schiatto Eh Porca Troia e fuoco lui È super efficace Mi sono stato un bracere Eh che pazienza Ok schiattato Oh l'Hardbest al 16 Not bad Oh quello? Quello l'attacco Ci credi che l'attacco? Ah bravi Ok sto duellando un Abra Attacco rapido Morto Oddio ho ucciso un Abra Ucciso un Abra Death cheat bug ragazzi 4 enderpearl Mamma mia Tutte meritate Perché lui uccide gli Abra Mamma mia Death allenatore dei Pokémon Ok Allora vediamo un po' Lì c'è un Minum Minum Pulse Non mi ricordo come si chiamano Quei due ragazzi Non mi ricordo mai i colori Ah questo è Plus 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 Meno e più Questo è più E questo è un Se 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 guad Le Se guad Le Sembra un verme Con una foglia in testa Un bruco Un bruco mela Va bene Ok vediamo qui a casa Luke Eeeh hanno tolto i blocchi Si può entrare Si può entrare Pokémon Center Ehi Pokémon Rifullati Io voglio fare il 19 Con Beldum Non mi frega niente Voglio ucciderli tutti Non voglio catturarli tutti Voglio ucciderli tutti Dov'è? Dov'è? Dov'era quel mostriciatolo brutto Lì livello 10 Vieni qua Devi nutrire il mio Beldum Con la tua inutilità Nutriscilo Bravo Critical hit Morto E non salgo di livello Manco per il cazzo E vai Che felicità Quello cos'è? Bicicletta? Se fosse un Pokémon strano Invece c'era una bicicletta Porcaccia Qui chi è che sta schiattando? Ha schiattato qualcosa Mi sa che era un PG Questo Metapod LOL Takedown Morto E' vero Perché non l'ho colpito? Scusate Che dice? Ah L'ho missato per due volte di fila? Really? Ma stiamo scherzando? 19 Nice Ragazzi abbiamo un Beldum A 19 si sta Per evolvere Si per evolvere Noi ragazzi Va bene Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video Dove spero di far arrivare Beldum al 20 E farlo diventare Il Pokémon next level Ragazzi Ciao a tutti Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti